Sono Stefano Gargiulo, l'installazione che ho realizzato è Trocta, ai giardini della Minerva. L'installazione che è fatta da un uovo composto da rami intrecciati, di varia tipologia, con una struttura abbastanza complessa, autoportante. L'idea era quella di creare un'installazione che fosse assolutamente inserita nel posto, nel luogo. Quello che ho immaginato era, a partire dal nome, legarla a Trocta, anche questa medichessa della Scuola Sanitaria Salernitana, primo medico laico tra l'altro, molto importante per le donne, per tutto il suo lavoro che ha fatto sull'ostitricia e non solo, ma anche sulla cura della bellezza femminile. Un'altra cosa che mi ha portato poi a creare questo lavoro è stato quello dell'attenzione alla comunicazione, tra virgolette, che hanno avuto qui da Scuola Sanitaria Salernitana, perché sono riusciti a creare un link di comunicazione per poter divulgare queste loro scoperte, e quindi creare, in sonetti anche volgari, in modo che siano comprensibili a tutti, il loro lavoro. L'audio è il racconto del luogo, delle persone che lo hanno abitato. Partendo da spezzoni, appunto, della regola della Scuola Sanitaria Salernitana, ricomposti in forma più musicale e con degli inserti di suoni della natura. C'è una luce all'interno, c'è una figura antropomorfa un po' che raccoglie, un contenitore, un nido, un uovo, quindi in quanto contenitore contiene la memoria, contiene la vita, contiene i ricordi sia del luogo, sia esterni che interni, quindi sia la natura con i suoi quattro elementi, sia il lavoro delle persone che c'erano intorno.